Abio Como Onlus, l'associazione per il bambino in ospedale, festeggia il suo trentesimo anniversario. Per la ricorrenza è stato organizzato un incontro pubblico con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Como, venerdì 25 maggio alle 17 nell'auditorium dell'associazione Carducci. L'incontro dal titolo Conoscere per non avere paura e sorridere anche in ospedale ad accesso libero. Sarà un'occasione per approfondire la tematica del volontariato in sanità e per un bilancio delle attività del Labio, a sostegno dei reparti di pediatria degli ospedali della provincia di Como. L'obiettivo dell'iniziativa è ricordare anche fuori dall'ospedale la lunga storia di accoglienza e sostegno offerta negli anni dai volontari dell'associazione e bambini e adolescenti ricoverati nei reparti di pediatria comaschi e ai loro familiari, per alleggerire quelli che sono gli aspetti traumatici legati al ricovero. Grazie a tutti.